Un sit-in pacifico dinanzi al supercarcere Le Costarelle di Preturo, nel quale peraltro è recluso il boss Matteo Messina Denaro, organizzato oggi dai sindacati per far emergere alcune problematiche relative alla sicurezza esterna della casa circondariale. Gli agenti della penitenziaria hanno più volte lanciato l'allarme. I sindacati parlano di un oramai inaccettabile mobilismo del reparto operativo mobile di Roma, al cui personale per decreto demandata la gestione dei detenuti sottoposti al regime speciale di 41 bis e che invece in totale mancata attuazione del decreto stesso viene affidata in misura sempre più rilevante al personale del cosiddetto quadro permanente. Noi abbiamo aperto questa vertenza perché c'è una carenza di personale sia sul quadro permanente, cioè del personale stabilmente assegnato in questo istituto che è pari a 21 unità, e sia del contingente GOM che si basa su circa 30 unità in meno. Per cui, vista la particolarità dell'Istituto dell'Aquila, è necessario interlocuire con gli uffici superiori del Dipartimento per aprire un'avvertenza e cercare di risorberla, perché non è possibile che si vada avanti con il sacrificio di chi rimane in servizio per garantire la sicurezza dell'Istituto. I livelli minimi diciamo che sono garantiti, però siamo veramente al limite. Come sappiamo l'Istituto 41 bis dell'Aquila è a contenimento totale dei 41 bis e dovrebbe essere gestito dal gomma. Noi diamo una fortissima mano, però il continuo impiego del personale del cosiddetto quadro permanente nei servizi che invece aspetterebbero dal gruppo operativo mobile tende sempre di più ad abbassare questi livelli minimi, tant'è vero che il pattugliamento della zona perimetrale dell'Istituto oggi, come oggi, è a cura dell'esercito italiano. Quindi è assolutamente indispensabile un incremento di organico, sia dal punto di vista del reparto operativo mobile di circa 30 unità, quindi chiediamo l'invio di questo personale, ma anche un incremento del personale del quadro permanente, proprio per far sì che i livelli minimi di sicurezza vengano innalzati considerando la tipologia dell'Istituto.